Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Matos e ci sono tornato finalmente con lo speciale 850 iscritti. Come avete visto dal titolo non sono da solo perché è un 2PlayersOnePad, sono in compagnia di CrazyManiac, link in the description ovviamente, e raga ovviamente vi invito a visitare il suo canale, ottimi video di Call of Duty, PumpStomping, ho abortito un nome, e raga oggi faremo appunto questo speciale dove sarà praticamente un 2PlayersOnePad, per chi non lo sa dovremo utilizzare un joystick come potete vedere, raga doppia webcam, doppio lavoro di editing, quindi raga doppio cazzo in culo, dovete lasciare un like, Quanti like era? Quanti like? 80 like, no, 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 non ci siamo, no, non ci siamo, 100 like raga, quindi se non arriviamo a 100 like, raga vi muore la pecora, quindi detto questo, raga come potete vedere due webcam, dal lato vedete il joystick come appunto in questo momento, e dall'altro lato vedete appunto noi che ci giochiamo, scriviamo e vi, non lo so, bestemmiamo le peggio cose addosso, quindi detto questo, lui è sconvolto perché raga il primo video con la webcam, lui è scicazzo, molto sconvolto, Andiamo a cercare subito il batch, e raga non vi scordate, vi lascio il like, bella! Qua 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 qua, vedete qua, allora raga, fai più po'? No, eh no, perché sennò non è qua, così per forza, è un casino, raga la cosa è troppo difficile, avanti, avanti, fighiamo, oddio, aspetta, ma io con il sinistro che faccio? Ti ho detto, io lo indirizzo, cance, oh, oh cazzo, penso è l'unico tiro che faremo questa partita, che devo fare così, adesso? Tu devi andare indietro, vai lì indietro, no, tu devi fare tutto tu, passare tu a fare con X, sì, oh cazzo, raga il brasileo! Vai difenderemo col cazzo che faccio, passalo su tu, guarda vai! Che cazzo! Come ti armi il giocatore? Aspetta, voglio cambiare il giocatore. Un secondo. Arbitro. Come si difende? Contropide. No, riguardo. No. Vai avanti. Aspetta. No. Il tiro dell'anno, ma quando ci ricapita una cosa del genere. Sei l'unico tiro per fare io. Non ci credo. Stiamo all'amerando. Come si cresce? Io cambio solo il giocatore e corro. Cosa è brutta? Il nostro. Tu nasci. Il nostro è cazzo. La vuoi da toccare? Certo. Quel figlio di puta. Riga, ovviamente 100 like. Non vi scordate di lasciare un pollicione in su per questa vita splendida. Che cazzo sto dicendo? Boh, mi parte la Divina Commedia a un certo punto. Giochiamo due giocatori con due palli. Mamma mia. A lui, babà. Ma tu, aspetta. Ma io non ho capito che farci. Ma il passaggio chi lo fa? Cioè, tu scegli la direzione, non io. Come ci facciamo io? Riga, noi dopo due ore capiamo. Come si fa? Cioè, non l'abbiamo mai provato. È live la cosa. Cioè, nel mar che ci rompe il culo. Merda. Nei mar di merda, figlio di puta. Oh, ehi, devo mettere. No, cazzo. Sì, sì. Mostra, niente. Andiamoci addosso. Andiamoci addosso. Riga, vi invito a giocare anche voi con un pal di due per su. Non direte che... Ma che cazzo? Riga, mamma mia. Cioè, questi proprio vogliare rallentature questi passaggi. No, cazzo. E dai, però, vabbè, ragazzi. Vabbè, strusso, ragazzi. No. No, l'avevo fermato. Sì. Mi cura. Mi cura. Mi cura. No. No. L'ho lasciato il culo. Come? Che culo. Che culo l'ha tirato? Sare la culo. Non ha bezzato. Non ha bezzato. No, 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 no. Butto a scivolata. Scivolata. Sì, sì. Oh, cazzo. No. Dai, no. Se lo stiamo giocando bene. No, è una dominata fino a tu. Non ci credo. No, raga, è troppo bella. È troppo bella. È troppo bella. Raga, più che altro, è una cosa bella. Guardate le due webcam. È troppo bella, cioè. Cioè, io così vi mando a fanculo due volte. Non una, ma in due volte. Così sono otto. O sei. Sì, sei. O nove. Riga, vai. Ci risiamo. Secondo tempo. Si riparte. Bello, bello. Cambio di giocatore. Cambio di giocatore. Se mi parla lunga. Non sto cambiando. Io sto credo sia a random. Questa cosa non è una di quelle cose proprio efficacissime. Attenzione. Non ci credo. Madonna portierone. Cambio di giocatore. Eh. Non so che cosa fare, ma con quel cazzo si cura. Perfetto, vai. Sei tu a curere. No, sei tu. Non sto facendo. Vai, ora crossala e poi clicca quadrato. Clicca quadrato. No. Oh, mio Dio. Eh. 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 Cazzo, cazzo, cazzo. No, perché sento la scivolata? Pensavo di prenderla. Vai. Non c'è, vai. No, strano, no. Buttala sopra, buttala sopra, buttala giù, buttala ancora giù. Mamma mia, regala il Barcellona. Scatta, scatta, scatta. Eh, scatta. Vai. Oh, cazzo. Dai, gliela. Dai, gliela. Tira. Oh, cazzo. No. Madonna, madonna, madonna. Che cazzo stiamo a fare? Ali, babba. Vai, nostra, pendila, per il cazzo. E io non ho ancora capito cosa devo cliccare, te lo giuro. Non ho ancora capito cosa faccio io in questo video. Non va bene. Ma quale si corre? Tu corri, non sono io. No, tu corri. No, quale di due si corre? Sicuro. Sì. Bello, bello, compa. Regala, però stiamo a perdere solo 1-0, cioè non è chi. Solo un gollo ha fatto. Stiamo perdendo qualcosa come 36-0. Spezia di una gamba. Una... Spezia di... Oddio. No, no, no. No, che culo di merda. Like. Olni fa di shit. Ragazzi, non perdiamo più di 4-0, c'è il like. Oh, è iniziato, oh, è iniziato. O di like, cazzo. Corri sempre tu. Bambino. Ah, ma io indirizzo. Ma che cazzo fai? Ma io sono indirizzato da due. Ma io indirizzo. Ma perché ti sei tornato indirizzo? Eh, ma perché tu non hai fatto ciò che volevo. Rega, ma iniziano a tipo le questioni. No, lasciamostare. Lunga, lunga. Alla sinistra, alla sinistra, alla sinistra. Dai, aspetta, ora corri un po'. Skill. Fai con la logica, cazzo. Vai. Vai. Vai, metti là. Oh, no, tira. Oh, oh. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Non ci credo. No, veramente. Se facevamo sta cosa penso che... Vabbiamo andando solo a fare i montelli di FIFA. Uh, tu ne hava. Dai, almeno un gol dobbiamo fare. Eh, un caccio. Vai, vai. No, merda. Eh, bip. Paravà, il sfumato fa carino. Capisì, Snoop Dogg. Quindi, raga, il video finisce qui. Io spero comunque vi sia piaciuto. Veramente c'è stato un impegno da parte nostra gigantesco. Registrata con due webcam. Sincronizzarlo non è veramente facile. Il lavoro è veramente duro. Soprattutto, raga, il primo video insieme io e Maniac. Quindi, raga, se ne volete altri lasciate un like. Ovviamente, raga, passate nel canale di Maniac. Troverete il link in descrizione. Raga, cerchiamo di arrivare almeno a... Cento like. Ha detto bene questa volta. Che ha detto lui? Cento like. Quindi, raga, veramente a cento like. Faremo un'altra di quelle sfide impossibili. Amantus da Maniac. È tutto. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella, raga. Bella.